Adesso vi raccontiamo di un giovane di Vittoria innamorato del latino. La storia di Gianluca che si è appena laureato con una tesi di pura filologia scritta nella lingua di Cesare. Letizia Vella. Mi nome è Johannes Lucas e mi sembra lingua latina valdissima stamata. Iam a Billo Tempore. A Vittoria lo chiamano Latin Lover. Gianluca Vindigni, 26 anni, si innamora del latino a 15 grazie al suo prof del liceo scientifico, Daniele Liberto. Lunedì si è laureato in lettere classiche con una tesi di pura filologia sulla lingua usata da Cesare interamente scritta e discusse in latino. La struttura della frase latina, la perfezione della sua grammatica, sì, mi hanno fatto diventare malato di latino. Ora tra prof ed ex allievo si scrivono in latino. E l'unico merito che mi riconosco è quello di non averlo saputo rovinare nel corso dei cinque anni. Ma tra di voi quando vi sentite parlate in latino? E lui da questo punto di vista è molto più avanti di me. E Gianluca che da autodidatta ha anche studiato il greco antico, si prepara all'imminente certamen nazionale in lingua. Sogno un giorno di lavorare, però per ora sto lavorando a un versionario didattico per i licei classici scientifici. Sarà diviso in due tomi. Sono al lavoro del tomo B perché già il primo l'ho completato. Si definisce un nerd latinista sportivo. Non solo il latino in testa e nel cuore, ma anche kickboxing, il calcio, i videogiochi, le ragazze. Il latino è galeotto, sì. In che senso? Che spesso con il latino si può conquistare, si può conquistare, assolutamente. Ma bisogna saperlo usare. Vai, vai, vai.